Prosegue la bonifica dell'area ex AMGA delimitata fra via Morosini e centro direzionale Benelli, ma intanto spuntano altri malaugurati intoppi. Gli scavi in corso per la piantumazione delle circa 500 piante fra alberi e arbusti previsti per le opere di bonifica green hanno infatti portato alla luce piccoli frammenti di amianto depositati ad un paio di metri di profondità. Un inconveniente che si fatica a ricondurre ad un preciso percorso ma che obbliga ad una nuova rimozione di queste componenti nocive. Ora si procederà ad una campionatura in appositi sacchi depositati in un tendone bianco allestito ai lati di via Morosini. Probabile che nei prossimi giorni le operazioni vengano accompagnate da un'ordinanza di obbligo di finestre chiuse per i residenti della zona così come di non circolare negli immediati paraggi. Un'area inquinata che è davvero senza pace in questi anni 2000 ma si tratta di un ostacolo che anche oggi non ha pregiudicato le operazioni di creazione di parco urbano cominciate tre mesi fa. Si tratta di un lavoro nato dalla convenzione tra Comune, Università della Tuscia e ARPAM che utilizza tecniche di fitorimedio. Vale a dire l'impiego combinato di piante e microorganismi del suolo selezionati direttamente nell'area e testati per le loro capacità di aggredire i contaminanti organici. Contestualmente si punta a risanare la falda acquifera tuttora contaminata pompando esternamente l'acqua. Una volta che l'area sarà piantumata verrà mantenuta anche grazie alla nascita di un laghetto per il quale è già stato realizzato lo scavo. Laghetto che sarà alimentato dalle acque della falda purificate che serviranno per il sostentamento del verde. Dunque una operazione di rigenerazione che spera che l'ultimo ritrovamento resti un episodio isolato e non l'inizio di un nuovo percorso in salita.